La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne per produzione di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Brancaccio in transito per le vie cittadine hanno avvertito un forte odore provenire dalle abitazioni di una palazzina. A seguito degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione domiciliare al primo piano ed è stato rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana coltivata in modalità indoor. Gli accertamenti hanno consentito di giungere all'individuazione di un soggetto già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa specie. L'attività investigativa ha consentito il sequestro di 197 piante di varia altezza per circa 96 kg oltre al sequestro del materiale utile alla produzione come lampade alogene, filtri, condizionatori, ventilatori e concimante. Nel contesto delle operazioni è stato accertato un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica in relazione al quale personale di Enel Distribuzione ha provveduto al distacco. L'uomo è stato tratto in arresto per produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. All'esito dell'udienza di convalida l'arresto è stato convalidato e sono stati applicati gli arresti domiciliari.